Adesso prendo il lavoro di... Sì, sentiamo anche il tuo, sì. Va bene, va bene. Adesso vediamo. Aspetta. Allora, questo è il lavoro di Leonardo, che è molto divertente, devo dire. Grazie. Intanto Leonardo è stereo, come sarebbe a dire stereo? Avevamo detto mono. Eh no, allora, è stereo per un motivo solo. Non so se hai sentito. L'ultimo audio è una registrazione della mia voce, appunto, tra virgolette, se si può definire voce. E è l'unica cosa che ho registrato direttamente sul programma, ok? Perché tutti gli altri suoni sono... ho preso il mio fantastico Shure SM58, sono andato in giro per casa a battere i cuscini del divano, a battere le pentole, con mia madre che mi guardava come se fossi un pazzo maniaco, e quelli sono tutti in mono. Va bene. L'ultima cosettina l'ho registrata sul programma e ho fatto la stupidissima scelta di registrarla sul mixer, perché... sì, perché... era tardi e... scuse. Ok, va bene, ma sto scherzando, va bene, è solo che è stereo, e vedete, anche la stereofonia è una roba che in questo caso qua non era... Non so se... allora, ok, lo vedete? Lo sto condividendo? Sì. Adesso vediamo se lo sentite. Lo sentite? Sì. 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 pronto sì 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 ma no si poteva non è che si doveva si poteva dunque scusa aspetta io adesso non so più chi e chi perché non vi vedo e non avete più le vabbè ok 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 va bene no ci sono due con la m quindi perché ci sono anche io ok va bene ok allora io vorrei chiedere se volevo chiedere a leonardo lui come come ha fatto cioè tutto il procedimento allora il procedimento è iniziato il giorno stesso della consegna dato che io sono una persona che si fa molto prendere dall'ansia e dalle paranoie e non avevo quasi al quale qualche modo questa musica ti rappresenta non avevo alcuna quasi alcuna idea di cosa fosse una pasta caglia cioè sapevo che era comunque come diceva il maestro una musica che veniva suonata in strada in spagna ma non ero ferrato sul concetto quindi è iniziato tutto dalla fantastica pagina di wikipedia su che cos'è una pasta caglia la divisione tra pasta caglia barocca romantica contemporanea e mi sono concentrato soprattutto in quella romantica dove parlavo appunto delle suite in g minore mi sono ascoltato la in sol minore sol minore mi raccomando notazione inglese americana e notazione oppure g minor cioè o dici sol minore o g minor però basta che non dici j.s.bach no alla fine quella romantica mi ha interessato molto e anche quella barocca mi è piaciuta molto quella contemporanea un po' di meno anche se sono abbastanza seguace di shostrakovich mi piace parecchio mi piacciono dei suoi pezzi però mi sono ispirato principalmente a quella in in sol minore appunto di handels e poi nella passacaglia classica di handels scusi handels e alla passacaglia classica di johan sebastian bach il processo è iniziato tutto con io che aprivo affle studio aspetti che faccio la condivisione dello schermo che è la nostra applicazione ok quindi fl si fl è il mio il mio unico tesoro è iniziato tutto con io che scrivo la mia fantastica passacaglia su pianoporte fantastica poi non è così tanto mi gestisco tutti gli unisoni e tutte le cose quindi è iniziato tutto da questo è iniziato tutto da questa scrittura di questa passacaglia qua che è la passacaglia che avete sentito pianoporte non serve risentirla dopo aver fatto questa scrittura su pianoporte mi sono un attimo seduto a pensare su cosa volessi fare veramente perché prendere una passacaglia e non dargli alcun significato e fare una roba con semplicemente dei rumori a caso presi da in giro non mi sarebbe piaciuto infatti qua vediamo subito tutte le varie idee non c'è alcun effetto come si può vedere dal mixing questo equalizzatore è qua solo per vedere se la low end era ok per vedere se la low end era per vedere il bilanciamento del pezzo volevo dare un avevo va detto avevo proibito l'uso di effetti salvo pitch shifting e pitch stretching no 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 si l'equalizzatore poi l'ho rimosso è solo per ceccare ok era un controllo non era nulla di che va bene ho capito sto scherzando sempre ah ok e non c'è alcun effetto su nessuno dei 12 canali del mixer c'è solo una gestione dell'audio per far risaltare più alcuni suoni altri di meno e niente l'idea mi è venuta perché c'era mia madre che aveva deciso di iniziare a fare una torta così dal nulla c'erano vari problemi tipo il forno oppure scegliere la forma precisa della torta e infatti da qualche parte qua c'è anche una registrazione di io che le vado là col microfono mentre sbatterevo questa qua canale 9 direi che sbatte le uova con la frusta poi vabbè i vari suoni mi sono venuti in mente girando per casa la cosa più difficile è stata prendere quei suoni e immaginarli su scala tridimensionale cosa intendo non poter mettere effetti come riverbero o di lei o cose del genere mi ha fatto pensare che avrei dovuto mettere degli unisoni particolari e dei suoni con dei volumi più bassi e fare un layering diverso da quello che faccio di solito perché solitamente faccio un layering un pochino diverso più basato sugli effetti sulla struttura di compressione eccetera eccetera che cosa hai usato per il registro ho usato uno shure sm58 per la gran parte dei suoni poi ci sono certi suoni tipo questa bottiglia questo divano avevo delle prove con la band e c'è un mio amico che ha un neumann abbastanza bello e gli ho chiesto di prestarmelo per una giornata mi sono divertito con il neumann del mio amico e ho registrato ragazzi ci avete ci avete del materiale io vi avevo chiesto di registrare col cellulare alla porco mondo cioè non bravo no infatti io sento tutte queste queste che io avrei fatto ma certo ma era questo il fatto è che Leonardo è uno che gli dà in un dito e si piglia tutta la mano è buon per lui va bene e quindi? e quindi ho preso tutti i vari suoni che trovo principalmente in cucina tipo un wok e un mestolo un pentolone di quelli grossi vecchi probabilmente di mia nonna non so da dove derivi un piatto di legno molto bello di forma circolare vuoto e ho detto wow questo coso mi sarà utile infatti è una delle uno degli strumenti più presenti che sarebbe questo qua in cantina appunto per dargli un po' più di ampiezza però ah imbroglione non ti ho non l'altro di berbero ma si è andato in cantina eh non è un effetto ma sono capace pure io così ho registrato è l'unica cosa che ho citato tra virgolette però questo piatto di legno che faceva questo rumore appunto bello forte si è sbattuto con una certa intensità al suolo e niente allora per la prossima volta è proibito andare in cantina usare la tromba delle scale usare qualsiasi cosa che faccia il riverbero naturalmente è proibito usare il riverbero punto ok va bene scusi andiamo avanti e niente no ma capite che è bellissimo fare dei divieti e poi romperli cioè e vedere se io me ne accorgo non me ne raccordo devo dire poi vabbè ogni sequenza è divisa ad esempio questa è la la zona dei medi che è principalmente incentrata su questo walk e questo mestolo che vengono battuti questo pentolone mi ha coperto gran parte della low end insieme a io che do delle pacche fortissime al mio povero divano che infatti hanno la stessa le stesse note insomma è un layering e e niente l'high end è dalle chiavi no dallo scaccia pensieri è tutta l'high end che sta qua e niente non non c'è molto altro la cosa che ha preso più tempo tra virgolette è la scrittura della passacaglia e la parte più di ricerca dei suoni poi tra vari impegni ci ho messo anche un po' troppo tempo per fare tutto ciò però ci ho provato bene allora facciamo facciamo un giro di opinione che cosa ne pensate partendo da Leonardo penso che avrei potuto fare di meglio come sempre ci sono certe cose che allora innanzitutto non mi fa impazzire il risultato finale del suono perché non è pulito al livello di pulizia che vorrei io io ci avrei messo sicuramente una compressione diversa avrei cercato di tenere i livelli più equilibrati anche se ci sono riuscito leggermente facendo un mixing audio però non ci sono riuscito in un punto cioè non ci sono riuscito in maniera puntigliosa e poi probabilmente avrei accorciato l'intro perché a risentirla dopo un po' di volte mi sembrava un po' lentina come intro e niente la parte di cui sono più fiero tra virgolette è il finale perché scrivendolo volevo qualcosa che scrivendolo al pianoforte volevo qualcosa che risolvesse su dominante però poi ripensandoci ho detto ma sì ma essendo musica concreta non risolviamo su dominante risolviamo su qualcosa di divertente e ho appunto ho risolto su l'apertura della mostra e l'epifania quindi però sì ci sono delle cose che avrei potuto fare meglio delle cose su cui avrei potuto passare un po' più di tempo anche la gestione di automazioni di audio per fare dei feed out e dei feed in però dai non è non è troppo non è pessima mi tento di aver registrato in cantina però non mi pare che sei molto pentito va bene ma non fa niente va bene Sheila cosa ne pensi Sheila? infatti si è una passacaglia ma a volte si perde si perde si perde un po' come i suoni del mondo ambientale cioè come del mondo del mondo reale perché credo che il primo piano la prima dimensione è il piano con la passacaglia infatti musicale e dopo gli altri suoni a me mi sembra che sono un po' indietro nascosti cioè il fatto è che non ha usato i suoni del pianoforte Leonardo vero? no no il pianoforte non c'è però ci sono dei suoni intonati cioè ci sono dei suoni concreti che sono intonati e quindi diciamo per esempio il basso della passacaglia il basso della passacaglia è fatto da suoni concreti intonati ok no allora no 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 però però no no però hai detto una cosa importante Sheila cioè il punto è che diciamo l'aspetto l'aspetto melodico della passacaglia da a volte prende il sopravvento sull'aspetto concreto sì questo beh questo voglio dire adesso noi non cioè quello che quello che poi vabbè poi per ultimo parlerò io ma insomma ecco mi interessa sapere qual è la vostra qual è la vostra così opinione a riguardo cioè il punto anche per Leonardo non è di dire questo è bello o non è bello il punto è di vedere quali sono i problemi e quali sono le cose riuscite bene anche da te stesso Milo grazie 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 sì non è detto che non è detto che leonardo volesse abbracciare la scuola francese grazie adesso adesso poi sentiremo anche il tuo marianna oltre alle cose che sono state già dette forse un'impressione che ho avuto è stata che forse anche un po' troppi suoni secondo me non era neanche io adesso non lo so quanti ne hai usati leonardo però forse 11 barra 12 però non so secondo me anche cioè sarebbe stato più interessante soprattutto in certi punti avere proprio più la chiarezza dei vari suoni che stavi usando e forse per dare questa chiarezza si potevano usare anche meno meno suoni ok grazie per grazie per avermi detto ok boh tocca a me allora il pezzo è molto molto divertente molto carino molto musicale soprattutto a una buona musicalità il problema grosso che è quello che mi aspettavo di incontrare adesso poi vedremo col pezzo di milo il problema grosso in una cosa del genere è leggere la tua identità cioè dov'è leonardo in tutto questo aspetta non mi devi rispondere fammi 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 definire bene il problema allora immaginavo che il pezzo fosse stato fatto come l'hai fatto cioè sostanzialmente suonandolo cioè prendendo un frammento musicale convenzionale ok suonandolo e sostituendo suoni ora io vorrei riuscire e questo di solito ci si mette parecchio tempo a liberarvi degli schemi convenzionali di pensiero allora perché perché non siete obbligati no noi sapete ci sono un sacco di persone più o meno imbecilli che passano la vita a dire ah ma la dodecafonia è una cosa terribile perché ti costringe ti fa questo e quell'altro no in realtà la dodecafonia è un meccanismo di pensiero che è estremamente lasco rispetto alle costrizioni a cui vi sottoponete vi sottoponete volontariamente senza senza cioè in poche parole vi suonano bene quello che vi suona bene sono generalmente gli stereotipi capite quello che sto dicendo per esempio per dire una cosa io ho detto niente effetti niente perché perché anche lì ci sono quintalate di stereotipi no ma non ho detto no usare sempre lo stesso metronomo per tutte le voci questo chi è che te lo dice te lo dice fl studio fl studio c'ha un bpm no vabbè è quello che si possono cambiare cioè si possono fare delle automazioni lo so lo so si può fare tutto con tutto ma guarda caso non l'hai fatto ma non capisci quello che voglio dire e no ma non è così non è vero è che un certo modo di procedere produce un certo risultato capisci non è che sei tu che non ci hai pensato è che gli strumenti che usi non ti ci fanno pensare per esempio le cose che abbiamo fatto noi programmando a fatica facendo con la con la fatica di fare una roba no in realtà ti fanno vedere un altro mondo un mondo in cui tu ti puoi muovere più liberamente se te che devi decidere poi magari decide esattamente la stessa cosa allora tanto vale usare fl studio questo è quello che capisci quello che voglio dire il problema però è che gli strumenti che usate in qualche modo vi costringono a certi stilemi linguistici capite quello che voglio dire allora adesso per entrare nello specifico nel dettaglio una cosa che ha così accennato Marianna questo pezzo non respira ti rendi conto che non respira no questo comincia con una certa con una certa dinamica c'è solo un momento leggermente prima della coda finale in cui c'è un attimo di respiro ma ma è un respiro affannato nel senso che ci si arriva cioè è tutto a manetta no questo per esempio è uno stilema è uno stilema della musica di consumo cioè la loudness war no cioè tutto forte quello che voglio dire è che limita la tua musicalità cioè se tu se tu costruisci una cosa in maniera più articolata dal punto di vista dinamico in cui tu cominci in un certo modo magari piano oppure magari forte però dopo questo forte ci deve essere un piano ci deve essere qualcosa capisci? questa è la cosa che si nota più di tutti lo noti quando apri il file cioè quando lo vedi dici cioè tutta a manetta no? quindi diciamo che anche questo secondo me è una cosa che cioè per esempio l'abbondanza di voci è vero che parti da una voce sola parti dal basso e diciamo questa è la forma della passacaglia che te lo dice però va bene diciamo in linea generale quello che le forme musicali classiche vi dicono è che musicalmente funzionano cioè usare una forma classica vi consente di non pensare troppo alla forma e costruire poi dopo quando diventerete bravi stravolgerete la forma classica cioè farete delle cose più sorprendenti più no? però però intanto per cominciare questo è un buon meccanismo ecco tu non conoscevi la passacaglia adesso la conosci e hai visto come funziona ok? l'hai vista abbastanza bene detto questo per esempio ci sono delle interpretazioni appunto moderne della passacaglia cioè la passacaglia la prima opera di Webern è una passacaglia no? di Anton von Webern è una passacaglia non è dodecafonica è una passacaglia atonale ma è molto bella è molto ricca è una passacaglia completamente diversa dalla passacaglia barocca aggiunge delle degli elementi di ricchezza formale notevole direi che il 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 è una passacaglia questo ritmo incessante in semicrome è molto molto invadente e stanca molto è molto stancante allora questo mi permette di fare per esempio un discorso interessante che vi che vi vorrei fare cioè quando quando scrivete eh il 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 vostro problema il problema compositivo principale è quello di equilibrare la ridondanza con la novità questo l'abbiamo già detto ma è è un po' un concetto termodinamico cioè nel senso della termodinamica dell'informazione cioè voi sapete bene che quando quando eh presentate una cosa la prima volta c'è la sorpresa della presentazione no? non sappiamo cosa aspettarci quindi l'elemento di informazione è molto molto elevato eh quando la presentate la ripresentate una seconda volta pian piano l'informazione cala se si ripresenta sempre nello stesso modo con lo stesso tempo per esempio con lo stesso intervallo eccetera eccetera l'informazione cala sempre di più potete pensare in questo modo se io vi dico eh guardate mi raccomando ragazzi la settimana domani sorge il sole voi mi dite sei sì sì certo lo sappiamo già intanto sorge tutti i giorni quindi voglio dire non c'è nessuna sorpresa no perché è un fenomeno che si reitera ogni giorno e lo sappiamo di sicuro se invece vi dico guardate che domani non sorge il sole l'elemento di di sorpresa e di informazione è altissimo proprio perché siccome sorge il sole è super ridondante non sorge il sole è super informativo cominciate a preparare il vostro razzo per Marte perché domani la terra finisce la sua vita no? capite? cioè ecco ma ma la musica funziona così anche anche lei cioè la replica delle cose le consuma ok ora come si fa allora il punto è che l'equilibrio allora uno potrebbe dire va bene non replico mai niente ok faccio faccio sempre una cosa diversa ogni volta questo non funziona nemmeno questo no? vi è chiaro? perché una cosa diversa ogni volta è rumore cioè fate fate una cosa poi ne fate un'altra poi un'altra ancora poi un'altra ancora poi un'altra ancora non c'è discorso che si può articolare no? è come se io vi parlassi adesso e dicessi ah no cioè non si capisce niente perché? perché sto dicendo delle cose che non sono nemmeno codificate non sono delle parole no? una parola in fondo è la ridondanza di un concetto soltanto che sistemando le parole uno dietro l'altro io dico delle cose oppure delle altre oppure delle altre ancora ok? quindi l'equilibrio che c'è tra la ridondanza e la novità è un equilibrio fondamentale è la è la è la regola fondamentale della composizione cioè voi potete scrivere in qualsiasi linguaggio in qualsiasi eh con qualsiasi stilema linguistico volete ma la musicalità di una cosa si basa proprio su questo equilibrio ora siccome ho detto che il tuo lavoro è musicale eh il eh significa che in parte questo equilibrio è rispettato cioè ci sono delle cose che appaiono e ricompaiono però sono ragionevolmente variate per esempio a ogni giro della passacaglia tu fai delle cose diverse e questo funziona bene funziona bene dal punto di vista formale te ne sei accorto e ce ne siamo accorti tutti no il problema grosso è eh che per certi versi certe cose sono troppo ridondanti ok no cioè per esempio il appunto questo tactus di semicrome è veramente troppo eh troppo forte il problema qual è è che in questa cosa mentre per esempio una passacaglia suonata da strumenti tradizionali eh e e e e quindi eh legata al problema di come si suonano insieme degli strumenti tradizionali tra vari musicisti che quindi hanno bisogno di andare con un tempo comune eccetera eccetera noi non abbiamo nulla di queste costrizioni cioè noi noi potremmo per esempio per sciogliere questo tactus in semicrome fare fare in modo che questo tactus si muova per esempio dico per esempio a metronomi diversi o che addirittura segua delle funzioni lineari di rallentando e di accelerando mentre il tactus del basso della passacaglia che è quello che che crea la passacaglia si mantiene uguale o il contrario quello si muove in un modo quell'altro si muove in un altro cioè capite che ci sono delle che tutti noi abbiamo delle costrizioni mentali con le quali con le quali ci muoviamo e dal dalle quali è bene liberarsi per poi recuperarle non dico che ci sono delle cose che sono vietate anzi il mio problema grosso rispetto per esempio ai corsi di composizione che si fanno in conservatorio ai corsi di composizione che si fanno in conservatorio che cosa vi insegno? vi insegno allora il basso figurato si fa così il corale si fa così queste sono le regole se se rispettate le regole nessuno vi dice allora poi esce fuori della musica però se rispettate le regole prendete un buon voto perché perché avete rispettato le regole ma questo è come fare le parole crociate il sudoku cioè il punto è che questa cosa funziona bene fin quando esistono delle regole no? nel nostro caso che veniamo dopo Cage dopo la musica alleatoria dopo tutto eccetera non c'è più niente non c'è più nulla di tutto questo non ci sono delle regole che io vi posso dire questo è giusto questo è sbagliato no? però vi posso sempre dire questo funziona questo no capite quello che voglio dire perché la musica la musica poi funziona o non funziona cioè uno può fare qualsiasi cosa ma la musica funziona o non funziona e sulla base di che cosa funziona o non funziona funziona proprio sull'equilibrio che c'è tra quello che tra la quantità di novità che si propone e la quantità di ridondanza la ridondanza serve per la forma cioè se non ridondate se non ripetete le cose non avrete forma non si può fare forma ok se non se non innovate questa cosa diventa cioè se non presentate delle cose nuove questa cosa diventa noiosa cioè diventa noiosa diventa che si si consuma si ora se per esempio per esempio andate a vedere Brahms no? Brahms aveva questo grandissimo problema che insomma arrivava in un momento lui era quello che tutti quanti dicevano va bene Brahms è lui che 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 è il quello che dopo Beethoven è quello che rivoluzionerà il linguaggio di nuovo eccetera eccetera Brahms non si trovava nello stesso momento di Beethoven e non l'ha potuto fare questa cosa però aveva un problema principale che era proprio questo questo di come equilibrare la 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 novità con la ridondanza e se voi analizzate Brahms per Benino ascoltatevelo Brahms ascoltate che ne so il i concerti per pianoforte il concerto per violino le sinfonie il il quintetto per clarinetto vedrete che lui fa un lavoro e fa sempre questo lavoro qua che è il lavoro della variazione continua cioè lui ripete sempre le stesse cose ma mai uguali c'è sempre qualcosa che cambia no e che fa in modo che non ci si possa non ci si fermi mai su un punto e tra l'altro quando ascoltate ascoltatevi vi rendete conto che dopo dopo un po' è cambiato tutto ma non vi siete accorti di dove è cambiato non è che per esempio come anche ai tempi di Beethoven però voglio dire anche Schumann anche anche Mendelsso anche Schubert sono tutte persone che fanno degli archi di frase no? cioè ci sono delle frasi dopo finisce la frase c'è un seguito che può essere la frase ripetuta e modificata oppure un altro tema un'altra cosa eccetera eccetera quindi l'equilibrio è fatto a blocchi nel caso di Brahms l'equilibrio è fatto in maniera continua questa roba è una sorta di magma che evolve sempre e non si ripete mai uguale pur ripetendosi sempre ecco secondo me questo è un buon esempio di quello che si può utilizzare per 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 inventare delle cose anche ecco in una situazione come la nostra in cui noi non abbiamo più nessuna costrizione non dobbiamo usare le note temperate se le usiamo è una nostra scelta no? non dobbiamo usare non abbiamo più non dobbiamo usare metronomi singoli se le usiamo è una nostra scelta no? non siamo obbligati soltanto che per esempio molti degli strumenti informatici che sono presenti oggi servono per delle logiche di mercato allora la musica di mercato è tutt'altra cosa non serve non è musica che serve per pensare la musica è musica che serve per per strofinare le orecchie ma non è non è non è una musica che ti serve per pensare non è fatta per quello non è una critica estetica semplicemente non è quella la sua funzione solo che noi non parliamo di musica di mercato parliamo di di musica che non ha una funzione specifica immediata di utilizzo è una cosa che serve per pensare no? e allora proviamo a vedere quali sono i limiti del nostro pensiero cioè dove riusciamo ad arrivare ok? il problema grosso appunto è che spesso e volentieri in mezzo al nostro pensiero si ficca il lo strumento e lo strumento non ci permette di pensare in un modo o in un altro allora noi abbiamo fatto tanto cioè quando negli anni 50 avevamo detto ammazza è arrivato il computer siamo liberi col computer potremmo fare qualsiasi cosa in realtà non è vero cioè continuiamo a fare quello che facevamo prima capite qual è il problema ora per tornare al pezzo di Leonardo e vedi il fatto il problema che c'è sulla dinamica non ti permette secondo me di fare un finale fatto bene cioè il finale è un po' deludente rispetto a tutto il resto e ti dico perché primo perché appunto per preparare un finale tu non puoi andare a manetta tutto il pezzo e perché poi non hai più spazio per crescere no? quindi se l'idea era quella di fare un crescendo come sembra anche dal punto di vista strumentale non ci si riesce poi devo dirti che il finale è è è un po' è un po' troppo corto cioè questo questo questa questa ripresa finale con cadenza diciamo è un po' troppo corta cioè te la sei giocata un po' troppo corta se sembra quindi uno o due battute in più sarebbero state no uno o due battute in più otto o sedici battute però 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 devi crescere devi devi portarcela questa cosa capisci ok e in più diciamo la diciamo la sorpresa finale lo stappo del barattolo è troppo attaccato al finale cioè lo devi non si sente molto capisci ok in qualche modo in qualche modo è un po' l'unica cosa che è fuori ritmo ok c'è tutta una cosa molto ritmata e poi questa capita così e basta è finita cioè è come se l'avessi buttata via ok capisci mi sono segnato tutto sì l'altro l'altro problema è che appunto la sempre il problema della 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 agogica cioè dell'articolazione del materiale non ti permette di dare molta direzionalità formale al pezzo cioè questa cosa va avanti perché si sente bene il basso no per cui appunto uno cammina assieme alla passacaglia però in realtà potresti dargli più direzionalità più più spinta in avanti capisci ok è fondamentale per appunto per renderlo più 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 forte il pezzo più più espressivo ok ok mi pare che ho detto tutto mi ero segnato un po' di cose detto questo detto questo complimenti è bravo soprattutto perché l'hai consegnato in tempo grazie a tutti per le vostre opinioni scusate la prossima volta però meglio hai fatto benissimo sta buona adesso non fare non fare il vanitoso hai fatto più che bene va bene grazie adesso adesso sentiamo quello di oddio aspetta perché lo devo scaricare anche tu è una passacaglia di corsa allora posso posso leggere l'annotazione così perché non ho letto l'annotazione di di Leonardo che mi aveva mandato no 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 ma volevo leggere l'annotazione di Leonardo dovevo leggerlo prima no vabbè ma non è era una cosa più goliardica che ho messo all'inizio per raccontare la storiella del pezzo ma nulla di ecco l'annotazione di Leonardo era tra pentoloni che sbattono e finestre che ciclano nel momento più bello è sempre quando ci si apre una bella lattina fresca della propria bibita preferita chiuso il virgolettato pensavo che fosse una citazione di una pubblicità ma invece mi hai detto di no 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 è una cosa che mi è venuta in mente l'hai inventata tu benissimo potresti fare il pubblicitario allora invece Milo mi ha scritto buongiorno maestro lo invio in allegato il brano che ci ha chiesto l'ho chiamato Passacaglia di corsa spero le piaccia non so se mi deve piacere il nome o la Passacaglia e comunque il problema qui non è se mi piace o non mi piace cioè ricordatevi sempre mi sono ispirato ad alcuni brani di Piesce e Fer per comporre il pezzo anche se non è stato facile non mettere mano sugli effetti per migliorare le registrazioni purtroppo la qualità non è delle migliori perché le registrazioni sono state fatte con il telefono per strada ma spero che il compito sia come lo aveva chiesto adesso lo ascolteremo vi voglio dire una cosa rispetto a questo problema della qualità anche la qualità è un stilema della nostra epoca la qualità della registra allora va benissimo quando uno deve fare il tecnico del suono quando uno deve fare il compositore con la qualità o la mancanza di qualità ci si lavora cioè ci si lavora compositivamente ma non nel senso che si usano filtri per nascondere il rumore eccetera ma nel senso di sottolineare quali sono gli aspetti per esempio musicali del rumore capite quello che voglio dire a me della qualità cioè mentre sono d'accordo e sono convinto del fatto che la qualità per esempio quando siete un professionista dell'audio è importante cioè dovete ma dal punto di vista compositivo questa cosa mi interessa già molto meno capite comunque adesso adesso sentiamo sentiamo questa cosa aspettate che la la no bene i puntini su lei allora aspetta addirittura con overflow va bene la metto qui la vedete si ok l'ascolto l'ascolto pure io per la prima volta quindi non so bene che cosa riuscirò a dire dopo un ascolto ma vediamo si sente l'ascolto TV a a Grazie a tutti. Salve, scusi, potrebbe registrare il rumore del suo cane cabaia? Grazie. Che spiritosi che siete. Bene, facciamo di nuovo un giro. Adesso partiamo da Leonardo. Mi è piaciuta molto l'idea. La parte del cane cabaia è molto carina. Io sono un fan dei cani, però musicalmente ci sta. La parte centrale è molto bella. Credo sia un bicchiere di vetro. Ah, il palo della fermata. Figo comunque ci sta. Mi piace anche molto la parte più urbana del brano. Certo, la passacaglia è lo jogger. È il jogger. Respiro. Senti, è Canticchi la passacaglia di Marini? No, non lo... Ah, ok. Ho capito. Adesso la questione è... Un altro condizionamento che abbiamo è quello di dire mi piace o non mi piace. Ma il punto è qui se funziona o non funziona. funziona, si sente la passacaglia, si percepisce... Cioè, se a Monte non avessimo detto nulla, tu la fai ascoltare a un pubblico che è ignaro. Si percepisce questa cosa? Non ho una risposta, non è che dico sì o no. Dico... Comunque, scusate, io parlerò per ultimo. Sila. E questi elementi della corsa sono molto effettivi, cioè è molto effettivo per il ritmo per sé. E' efficace. E' efficace, sì. E' efficace. E credo che manca un po' di più di sviluppo, per così dirlo. Mi sembra che l'opera è troppo piccola, cioè di durata. Sarebbe più interessante fare un po' di sviluppo di variazioni su questo materiale. Ma è anche molto interessante quella cadenza in maggiore. L'interpretazione che Emilio ha fatto mi fa... Cioè, è molto... Mi sembra geniale. Sì. Ma sì, si sente la Pasacaglia, infatti. E belli suoni. Cioè, sai che è bello o non è bello, ma... Mi hanno piaciuto, sì. Mariana. Ma intanto una cosa che ho subito pensato è... è comunque alla differenza che c'è proprio tra Leonardo e Milo. Cioè, Leonardo è quello che prima si è scritto la melodia e poi ci ha trovato degli... degli strumenti un po', ecco, qui un po' come gli capitava intorno. E poi invece c'è Milo che viceversa è uscito per strada e ha detto... Vediamo un po' che esce fuori, no? Cioè... Quindi... Cioè... E tu, secondo me, si sente che c'è del personale in questa cosa qua che hai fatto. Io ho sentito comunque anche il fatto che poi canticchi, alla fine c'è la tua voce, la tua corsa, il tuo respiro. Questo è molto interessante. In generale, però, io ho fatto un po' di fatica dall'inizio alla fine a trovare questo pantomatico passo che doveva fare un po' da... Da basso, da... Diciamo, a un certo punto... Oh, la melodia, le passacaglia non è detto che facciano... Cioè, non è detto che siano sempre gravi, anche se quelle note sono gravi, ma ce ne sono molte che... Non è detto che... Ah. 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 Ma io trovo che invece il rumore circostante, cioè quello che si chiama generalmente il soundscape, aggiunge un elemento di ricchezza rispetto al... Allora, adesso faccio i commenti miei, ma appunto che sono molto a caldo, quindi non sono ben ragionati, ve lo dico subito. Allora, secondo me la passacaglia non si sente, cioè noi che sappiamo questa cosa ci rendiamo conto che la questione dei passi è quello che tu volevi mettere come basso. Ma il problema è che questi passi non sono veramente mai uguali a se stessi, anche se sono sempre uguali. Adesso faccio il contrario del discorso che ho fatto per Leonardo. Cioè, qui noi ci troviamo con un elemento concreto che quindi ha la sua problematica di comprensione e di acquisizione, cioè non c'è un pitch, il ritmo è più o meno un tactus sempre uguale, anche se al contrario del pezzo di Leonardo, tu avendolo fatto umanamente questa cosa, cioè l'hai corsa, questo basso, diciamo che questa cosa aggiunge la variabilità umana che è molto espressiva, molto funziona bene. Il problema è che non si percepisce, o perlomeno non si percepisce a sufficienza, diciamo l'intento, l'intento formale, cioè mi spiego meglio. Se io faccio, posso fare una passacaglia che fa non è una passacaglia, no? Perché mi manca l'arco formale della passacaglia, cioè la passacaglia c'è un basso, dove per basso ho una melodia acuta che può essere quella che vuoi, cioè lo puoi fare come te pare, ma c'è un arco formale che poi si deve ripetere. Allora, in questo caso qua, per esempio, ci troviamo che non c'è abbastanza ridondanza, cioè o perlomeno, ce n'è tantissima a livello del passo, ma quello non ti fa la forma. Beh, non lo so, io ve lo chiedo, secondo voi, adesso provate a pensare senza fare tutto il discorso che ci siamo fatti prima. Capito? Cioè, se tu lo presenti a un ascoltatore e gli chiedi cosa senti, lui ti dirà, ah sì, sento che è una passacaglia. Eh no, cioè, ma questo è il problema. Eh certo che no, ma... Sì, ma, ma voglio dire, ehm, il punto è che, ehm, tu questo problema, ehm, tu hai fatto un, un ottimo lavoro, ma, ehm, non risolto. Cioè, ci sono, allora, ricordatevi che scrivere e soprattutto scrivere nel nostro contesto è crearsi dei problemi, no? E poi risolverli. Cioè, la composizione è la soluzione dei problemi. È una soluzione tua, personale. Ha ragione Mariana a dire, sì, questa cosa si sente, si sente Milo. Mi verrebbe da dire, non veramente, cioè, si sente il Milo esteriore, a noi quello che ci interessa è il Milo interiore, ma a questo ci arriveremo, non c'è, non c'è fretta, no? Quello che senti qui è il fatto che Milo ha studiato la musica concreta. Cioè, e l'hai fatto bene e riesci a... L'altra cosa che mi viene da dire qua è che a fronte di un, a fronte di un, appunto, di questa, cioè, mancanza di ridondanza del basso, poi gli elementi che vengono, come il palo e il cane, sono troppo poco variati per... Capisci? Sono... In realtà, appunto, non è abbastanza sviluppata questa cosa, per cui non danno tanto fastidio, ma sono molto, molto, molto ridondanti, specialmente il ritmo del palo, no? Rispetto a una cosa che in realtà non si ripete mai, e che quindi, diciamo, dal punto di vista linguistico, ti dà una certa difficoltà da seguire, no? E però ti ritrovi che a fronte di questo il cane e il palo invece sono molto, molto... cioè, ricompaiono sempre nello stesso modo, sempre con lo stesso ritmo, sempre, no? Capisci? Ok, ottimo pensiero. Non è un errore. Ottimo pensiero, solo che... Beh, insomma, solo che, ecco, trovi sbagliato quello che dico? Cioè che è troppo ridondante? No, mi potete dire, eh? Quando non siete d'accordo, non è mica un problema per me, ma... Certo, certo. Eh, ma... Lo so, però vedi che, per esempio, questa cosa, cioè, l'idea di fare due passi oppure 30-40 secondi di corsa, cioè, ci sono molte vie di mezzo. Cioè, il grosso problema è che la parte formale della passacaglia sul basso, facendo 30-40 secondi di corsa, non si sente, non la percepisci, o perlomeno io non la percepisco. E il punto è... Allora, due sono troppo pochi, 40 secondi forse è troppo, no? E c'è una via di mezzo. Ma non è tanto la via di mezzo, quanto il problema che ti devi porre è c'è qualcosa, qualche elemento all'interno della corsa che ti permette di capire che c'è un ritornello, o no? Capisci quello che voglio dire? Perché in fondo, se tu corri e fai un loop, diciamo di 20 secondi, no? Magari senti semplicemente uno che corre. No? Quindi, quindi il problema seguente è ma, appunto, se io voglio usare la corsa come basso, benissimo, ottima idea, eccetera, eccetera, però c'è un problema da risolvere. Il problema da risolvere è appunto questo, che i passi non sono sufficientemente articolati per costruirci sopra una passacaglia dal punto di vista del materiale. Ok? Al tempo stesso, al tempo stesso, se tu dici, va bene, sì, però allora io ci metto sopra delle cose che invece sono assolutamente ridondanti, rischi di sfasciare tutto. Perché, diciamo, mentre l'idea dei passi è un'idea interessante e buona, l'idea dei suoni che sono timbrati, che sono, diciamo, diciamo che il suono del cane è un suono vocalico, facciamo finta, nel senso che il cane fa bau bau, sono un elemento molto molto forte rispetto a un elemento debole dal punto di vista linguistico. Anche questa è una cosa che dovete fare attenzione. cioè avere, per esempio, una cosa che trovo molto azzeccata è il canticchiamento mentre corri. Perché è azzeccato? Perché è una cosa molto tenue, molto delicata, però in una cosa molto tenue dal punto di vista semantico, cioè di comprensione, questa cosa spicca. L'avete sentita tutti, non si può non sentire, eppure è molto molto delicata. No? e questa cosa qua è bella. Cioè, adesso, appunto, avevo detto che non si dice bello brutto, mi piace o non mi piace, però è una cosa che funziona dal punto di vista musicale. No? Riesce a essere espressiva. eppure è una cosa super tenue, cioè appena appena accennata. E quegli altri affari là, i suoni del palo e del cane, sono come, appunto, se tu... sono un messaggio a contrasto molto molto forte. Allora, per fare una roba del genere bisogna essere forse più... non so, insomma, così viene un po' male per me. Ecco. Bene. Allora, vi rendete conto di una cosa? Cioè, vi rendete conto che di che cosa significa lavorare avendo dei vostri lavori? Cioè, quante cose in più si possono affrontare e si possono sviscerare? Perché, voglio dire, adesso, qui, a partire da questo si possono fare molte altre cose. Cioè, ce ne ho per voi da fare. Ok. Ok. Io propongo propongo cinque minuti di pausa. No, facciamo alle 16.45. Riprendiamo? Ok. Perfetto. Ok. Abra poco. Ok. Grazie a voi. fric emotito bundle. A partire. No, 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 no. No. No, Non. Ok. Grazie a tutti